Ciao a tutti carissimi, sempre il doc, il dottore di computer.it che vi parla allora, vi faccio vedere qualche trucco in Excel allora, niente di straordinario, probabilmente molte cose che vi dirò più che trucchi vi sembreranno delle stronzate però potrebbero tornarvi molto utili allora, innanzitutto come fare una linea diagonale all'interno di una cella in certi contesti può tornare utile se uno vuol fare una cosa un po' così, un po' stilosa allora, tasto destro su una cella, poi fate formato celle andate all'interno, adesso tra un pochino verrà fuori la finestra con della calma, senza fretta selezionate bordo e poi dopo vedete qua che c'è questo puntino cioè questa voce qua cliccate su ok e avete il vostro linea diagonale in una cella dopo, un'altra cosa, così, giusto da farvi vedere facciamo finta che qua dovete avere a che fare con il signor Pinco Pallino bello, eh? se volete in una cella unire il contenuto delle due parole vi basta fare un uguale fare un click su una parola poi scrivere il simbolo qua dell'e commerciale e poi un click su pallino Pinco Pallino tutto attaccato capisco che questo consiglio vi ha sicuramente cambiato la vita ecco, un'altra cosina questo è il ribbon, questo qua in alto questa riga qua cioè con tutte queste opzioni può rubare molte righe, diciamo, all'interno di un documento in Excel come farlo sparire? c'è un pulsantino sulla destra se però voi non volete premere il mouse perché siete più presi male del sottoscritto dovete premere contemporaneamente CTRL ed F1 e vedete? sparisce e così magari vedete qualche riga in più un'altra cosina qua ho messo un numero 555 se volete trasformarlo in Euro alcuni di voi vogliono la Lira ma in questo caso serve l'Euro per questo trucco dovete premere contemporaneamente i tasti CTRL maiuscolo e 4 e vedete? è venuto fuori in Euro io non so se mentre vi sto spiegando questi trucchi sotto viene visualizzato automaticamente quello che sto premendo spero di sì se non viene fuori, che dire? ce ne faremo una ragione ecco un altro trucchetto rapido rapido se premete qua sul 5 e premete il tasto CTRL e meno cancellate la riga e vi andare se premete CTRL e Z ritorna tutto come era prima un'altra cosa e poi dopo basta perché altrimenti dopo il video è troppo lungo vi addormentate anche se avrei altre cose da dirvi se schiacciate allora vedete qua pinco pallino che è tutto scritto in minuscolo se fate uguale poi scrivete maiusc aperta parentesi e ad esempio selezionate pallino chiusa parentesi pallino viene scritto qua tutto in maiuscolo capisco che questi consigli vi hanno assolutamente cambiato la vita e sicuramente andrete letto molto più felici carissimi io vi saluto continuate a seguirmi sul dottore dei computer punto it mi state iscrivendo in tantissimi adesso vedrò se possibamente far dei video far qualcosa qua ho varie richieste in giro vedrò un po' cosa cosa deciderò di fare carissimi vi saluto al prossimo consiglio e statemi come sempre bene vi auguro un buon fine settimana anzi sì buon fine settimana sì un buon inizio di settimana devo regolare l'orologio ciao cari a presto